Grazie a tutti. La parola è il decimo. Avevo sentito un'urgenza perché va celebrata. Visto che il noto di Leo è stato invitato dal segretario dei radicali italiani, io sento l'urgenza perché mi è accaduto raramente negli ultimi 55-60 anni, perché all'università mi è accaduto magari, che il mio incapponimento di occuparmi seriamente, credo, di credenti, di chiese, di Cesare, di Stato, sempre da liberale, credo, magari anche perché poi ci sono stati, per esempio, li cito ogni tanto come provocazione, il dogma socciniano, i soccini, che sicuramente, diciamo, nella scuola, nell'atmosfera di Benedetto Croce, sono stati evocati, li ho presi attraverso quelle evocazioni. E vorrei anche dire, rispetto al filosofo liberale, fino al 22-23 era considerato tale, ma poi andrò, credo, oltre che a Trespiano, andrò formalmente alla tomba di Giovanni Gentile, a Firenze, il filato, credo che anche da lui sia venuto qualcosa che poi mi era restata in mente. E dico raramente, come su un'altra cosa, il lato libero, c'è stato dibattito fra di noi. Grazie alla presenza, non da oggi, di Leo, credo che questa mia radice, storia liberale, respira. Perché ho avuto, rispetto a Lorenzo, spesso disaccordi, ma quasi perché mi incazzavo, perché stimo sempre di più. E ho sempre stimato, amato, ho avuto fiducia per Lorenzo, e mi incazzavo per quello che mi appariva, la pochezza, relativa alla grandezza di quello che lui sentiva, trattare non da, come si dice Angelo, da laicista o da anticlericale, il problema della religiosità e via dicendo, ed ero deluso ogni volta, rispetto a tutte le altre cose che invece Davi, diciamo l'inadeguatezza di quello. Poi, sì, c'è stato qualche altro, ma mai, e io lo ritengo centrale, potremmo dire che questo è centrale ed è radice di tutto questo, che noi siamo liberali e non badate per il fatto cristiano, perché, per esempio, devo pur dire che sono, e lo dico qui, sono un po' deluso, dallo scasso rigore e il rigore delle tavole valdesi. Io voglio dire che li adoro, se è possibile, ma proprio mi trovo a dire ma capo, aspettando, questo fatto della simonia, che era un po' alla base anche delle ispirazioni, della riforma, devo io dire simonia, vabbè. C'è stato Angelo, al quale però voglio dire una seconda cosa. Oggi mi convince meno le letture che mi offri, perché ti seguo sempre su questo piano. Le letture che ci offri. Sì, a questo punto, però c'è una cosa che non dimentico, credo che tu sia la prima novità per quel che mi riguarda, per carità, importantissima che è venuta ed è l'arricchimento di alcuni anni fa della lettura del barocco di Don Benedetto e degli altri. Fondamentale. L'ho ritenuto ancora, ma davvero lì, Angelo, credo che non solo per me, ma credo anche per più interni alla storia anticlericale da una parte o alla storia clericale dall'altra, in realtà, Angelo, dobbiamo un passo avanti quindi nella lettura di un'epoca storica, delle sue motivazioni, di quella estetica, della lettura estetica importante di Don Benedetto. Quindi, qui vorrei semplicemente dire, ringrazio molto il contributo al partito e non è la prima volta, che di Leo dà di ricchezza per me, di radici autentiche. Io ho sentito, ho letto praticamente della esistenza importante di Newton e di Lord Acton, da Panfilo Gentile nel 48, avevo 18 anni, perché la religiosità, perché poi ho continuato, il Tocqueville ci ha aggiunto alcune informazioni di recente. Allora, questo sottolineare, vogliamo un piccolo esempio? È stato evocato. Io ho espresso la mia solidarietà ai poliziotti che questo Cesare, perché c'è questo Cesare, poi questo Cesare è il nome di sto Presidente, ma anche dello Stato italiano, non intendo personalizzare troppo la questione, lì cosa succede? Un Agnus Dei, perché tranne nell'Ecclesiaste, no? Si chiama Coelet adesso, eh? Sì, ma tranne allora di un altro testo ritenuto apocrifo, quindi non lo c'è, non ritenuto, con sospetto di essere apocrifo, c'è un dato di pedofilia, l'Agnus Dei il bambino uguale, chi toglie per catamundi? No, e io dico francamente che su questo non sono d'accordo, come non sono d'accordo su tanti di noi che usano molto gli argomenti contro la pedofilia clericale, non so perché non l'altra, mai quella familiare, mai quella, no? Ma vabbè, comunque mai, no? E allora su questo davvero il bambino, i poliziotti sono padri di famiglia sicuramente, loro hanno sentito che Cesare, lo sanno, non sono ligi, ma sono fedeli, sono servitori dello Stato e spesso lo Stato ripone dinanzi a momenti atroci perché, come dicono di quelli del SIDIP, noi siamo, la nostra fierezza è di essere servitori dello Stato, ma il nostro dramma è di doverlo essere contro le leggi dello Stato, contro tutto quello che è il diritto, no? E sono in questo quelli che vendicano la categoria degli Eichmann, la vendicano perché oggi è un termine di grande questi si trovano con un bambino, si trovano con un bambino che sa quello che vuole, non vuole il padre e vuole restare con la madre e reagisce come una persona grande, no, 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 è una violenza, mi rifiuto, Dio! E questo? C'è il padre, che padre? E il poveretto lo possa capire pure lui, ma capisco di più i poliziotti padre, che cazzo facciamo? Questo cosa dobbiamo portarlo, con l'altro, eccetera, perché appunto tutte le letture, e io insisto, un po' con i compagni a volte non del fuori, con quelli avevamo racconto, ma attualmente i successori, ritengo che non capiscono che la sessuofobia è il male, all'interno della quale poi c'è le sue forme varie di omofobia, e su questo sono come tempi dell'anno antitlericale con qualcuno che poi gli si riprova dagli orgoni, ma forse non si riproveranno, assolutamente. Quindi ho terminato solo per dire questo è il problema e il dibattito, perché se tocco il problema dei credenti, incontro le donne vecchie di Michelino, capito? Dove sta il consigliere comunale di Torino? Ah, ecco, sì, di Torino. Le ho sempre, no, perché hanno, in realtà c'era questa caratteristica, erano con noi, il partito no, le nonne sull'aborto, sul divorzio, quelle nonne che non erano delle grandi fichette come spesso sono, perfino le mie coetanee oggi che sono bisnonne, no? E' importante, quelle nonne lì, vestite quasi come musulmani. Le rossane rossane, eh? Le rossane rossane hanno un tempo, allora mi rendivo a mio posto. Sì, no, ma la rossana appunto, no, guidava anche la rossana, malgrado tutto, come la Lotti, guidava lo schieramento maschile, tutto qua, quindi, allora ho terminato, volevo solo dire questo, solidarietà A è contro Cesare, questo Cesare, vi ho dato un accenno di già e lo ringrazio molto per l'aiuto che mi dà la collaborazione di Leo, perché credo che porre questo problema, questo problema è, credo, un problema di intima, strenua attualità nelle coscienze della antropologia di oggi e poi lì parleremo di spiritualismo, dell'immaterialità, della materialità e tante altre cose, ma le tratterò, credo, in un altro intervento, grazie. Grazie Panella, Biancardi.